Beatam medicent omnes generaciones. Canto Gregoriano. Generaciones, qui afecit mi magna, qui potens, Canto Gregoriano. Generaciones, qui afecit mi magna, Qui potens est. Questo vuol dire cantare a voce sola, senza un riferimento di una tastiera che ti dice gli intervalli come devono essere. E' semplicemente uno studio dell'antifola gregoriana Beatam medicent omnes generaciones, qui afecit mi magna, qui potens est. E' un comunio composto nel sesto modo e il testo è tratto da Luca 1,48.49. Questo canto gregoriano è composto per la festa dell'Assunta, che è il 15 di agosto. Questo canto gregoriano si trova a pagina 592 del libro Graduale Romanum, Un libro di canto gregoriano pubblicato a cura dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Pierre di Solesme, Sable-sur-Sard, Francia, tramite l'editore desche. Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, estate 2017. E' semplicemente uno studio. Salve.